Sono cinque i tifosi catanesi arrestati per l'invasione di campo durante la partita Padova-Catania allo stadio Euganeo. La polizia, intervenuta nei concitati momenti dell'irruzione, accompagnata da lancio di petardi e lacrimogeni, ha ricostruito la dinamica di quanto è successo. La curva nord ospitava 1900 tifosi siciliani, uno di questi ha aperto il cancello che porta al campo da gioco, seguito da una sessantina di tifosi. La polizia ha evitato il contatto con la tifoseria Euganea facendo rientrare tutti in gradinata, quattro operatori della Digos e quattro agenti del reparto mobile hanno riportato contusioni. Tre supporters catanesi di 41 e 40 anni sono stati arrestati per resistenza aggravata, tra questi, quello che ha aperto il cancello, hanno precedenti a vario titolo per associazione mafiosa, rapina, stupefacenti, reati da stadio contro la persona e contro il patrimonio e sono già destinatari di Daspo. Subito siamo intervenuti, la polizia di Stato, le forze dell'ordine, i servizi dell'ordine pubblica, noi siamo al di fuori degli stati, controlliamo le modalità di accesso, gli afflussi e deflussi dei tifosi, quindi essendo maturata questa criticità siamo andati all'interno e quindi abbiamo evitato il contatto con la tifoseria locale e quindi abbiamo riportato all'interno della curva nord questa sessantina di sostenitori catanesi. Un quarto tifoso catanese è stato arrestato all'indomani mentre si stava imbarcando su un volo per Edimburgo in partenza dall'aeroporto di Milano-Linate, un quinto è stato arrestato a Catania, sequestrate aste fumogeni e petardi. Abbiamo già attivato la divisione anticrimine Radigos per l'adozione dei provvedimenti di Daspo. Un episodio che non rimarrà senza conseguenze, dopo un sopralluogo allo stadio verranno ora prese nuove misure di sicurezza. Questa mattina abbiamo fatto una riunione, un debriefing per esaminare, analizzare quanto è accaduto e adottare quegli accorgimenti per il futuro che evitano anche in casi residuali un'invasione. Fare in maniera tale che ciò non si abbia più a ripetere e comunque faremo anche una rivisitazione di quelle che sono le misure. Grazie. Grazie.